salve a tutti ragazzi sono sempre io mi Enzo benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo tornati qui con la nostra carriera allenatore con il pordenone buon natale ragazzi non so sinceramente quando uscirà questo video vi faccio i miei più grandi auguri spero comunque nonostante il periodo stiate passando queste vacanze in maniera felice con i vostri cari mi raccomando teniamo duro e tanti auguri ancora spero di farvi passare qualche minuto in felicità non so se oggi è natale se è la vigilia se è santo stefano non so quando uscirà questo video comunque auguri a tutti voi ragazzi allora oggi continuiamo la nostra carriera allenatore siamo a inizio dicembre anzi inizio dicembre l'abbiamo già superato nello scorso video con il pareggio contro il venezia questa è la nostra situazione in classifica adesso come prima partita abbiamo il brescia e devo dire che non è proprio una partita semplicissima considerato dov'è il brescia quindi signori noi ci andiamo con il nostro moduli ma sapete ragazzi che oggi potrei quasi tentare di partire con la difesa con la difesa con l'attacco a due se non sbaglio mi è sembrato di vedere un calò fuori fase quindi dentro pasa al suo posto a questo punto signori direi che possiamo andare in campo così quanto riguarda le maglie possiamo anche fare una roba del genere direi perfetto andiamo in campo per questo super big match contro il brescia sempre sul pezzo e forza pordenone bella quest'azione del pordenone attenzione a misuraca se ne va butic prova a girarsi se ne va a sabelli col mancino e di nuovo non becchiamo lo specchio di nuovo perché ragazzi lo scorso episodio in questa stessa maniera abbiamo sprecato tantissimo nella paleta contro il venezia con questi diagonali butic ecco dio attenzione parate di andrenacci poi dio colpisce il muro del brescia e questa è un'altra occasione molto importante per noi ragazzi sì è bellissima ragazzi mannaggia addio e dai 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 che sbagliano mannaggia ma non posso neanche grattarmi il naso che questi me la buttano nel sacco ancora perisan parate da una parte dall'altra ragazzi almeno i portieri funzionano è proprio un bel vedere è proprio un bel vedere grandissima parata di perisan ragazzi torregrossa che stacca non so chi ha salvato ma si salva nuovamente il pordenone non ho capito se la parata perisan o il giocatore che stava sulla linea finisce qui senza recupero secondo il direttore di gara secondo me invece un po di recupero andava dato perché ci sono state tante occasioni si è perso molto tempo per i calci d'angolo però è una bella partita molto divertente ragazzi e stiamo tenendo botta è quello che mi sta piacendo stiamo tenendo assolutamente il ritmo punizione pericolosa batte spalek la mette in mezzo la mette fuori barison attenzione però perché c'è ancora il brescia con sabelli viviani spalek col mancino spalek ancora perisan sul primo palo ancora dopo lo stacco di torregrossa ci salviamo di nuovo ragazzi ma come stacca torregrossa ma guardate che terzo tempo fantastico questa volta è perisan con l'aiuto dell'uomo sul palo brutta palla persa occhio ad agli e tra l'altro attaccante che forse potrei e dovrei seguire potrebbe essere quello che fa per noi occhio al cross di sabelli ancora bravissimo perisan devo dire che la rinvia dalle parti di musioli che tocca il suo primo pallone davvero un ottimo tocco devo dire musioli e me lo son perso me lo son perso vantaggio brescia con biarnason me lo son perso con fisher perché ho cambiato giocatore non sono riuscito a contenerlo ma d'altronde ragazzi ci siamo mangiati tanti gol e quindi è giusto così dobbiamo finalizzare dobbiamo finalizzare dobbiamo finalizzare sono uscito male anche con il difensore però vedete che qua proprio ce lo siamo persi peccato ragazzi sinceramente non ho ben capito questo fallo fischiato cioè è uno spalla contro spalla esattamente come quelli che subisco io questi fischi non mi stanno piacendo sono sincero tazionash palek ha un buon destro lo prova c'è il 2 a 0 del brescia davvero un gran gol chi chiude la partita non può nulla perisanna e finisce qui signori davvero un peccato aprire questo episodio con questa sconfitta per 2 a 0 contro il brescia ricordiamocelo ci sia di lezione signori perché se avessimo sfruttato le nostre occasioni la partita sarebbe finita forse diversamente il brescia più forte non c'è nulla da fare quindi almeno per il momento penso sia comunque una vittoria giusta io devo migliorare nel gioco c'è poco da fare quindi non perdiamo tempo andiamo a giocare questa partita contro la cremonese con le due punte vi dico la verità anche se non sempre mi fanno impazzire andiamo in campo con questo 11 signori direi che le maglie si capiscono sempre sul pezzo e forza pordenone è che perdono un bruttissimo pallone secli buttic ti prego si salva con una grandissima parata il portiere della cremonese e non ho visto come si chiama il portiere scusatemi perché ho chiuso gli occhi per la disperazione perché è un po da piangere mi veniva è incredibile come buttic a volte si mangi dei gol fuori di testa no è passato strizzolo no ecco questa ripartenza del pordenone con andrea anderson avanza andrea anderson c'è il taglio di secli servito male male buttic dio no basta basta ragazzi basta non so dove sbaglio non so dove sbaglio ma basta questa è questa deve per forza essere una punizione non so dove sbaglio ma basta tutte le mi fai fare ma io sto spingendo start tu mi devi fare il cambio ma io non capisco no è natale mezzo è natale ma non capisco cioè non sto capendo proprio non riesco a comprendere sto tirando esattamente 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 come ho tirato tutte le altre volte che ho fatto gol ma proprio nello stesso modo non è che dici sto sto spingendo cose tasti diversi no no ragazzi no eeeh bravi loro devo dire bravi loro e bravo anche perizan qua difensivamente siamo mossi malissimo bravo perizan mamma che finta di ceravolo mamma per fortuna che era fuori gioco ultimi due minuti ragazzi si fuori gioco nettissimo non ci avevamo chiusi un gran che bene buttala su buttala su perizan vediamo se riusciamo a spizzarla ma direi di no ragazzi finisce qua raga finisce qua 0 a 0 tra cremonese e pordenone si poteva fare assolutamente di meglio purtroppo come per la partita contro il brescia ci siamo baggiati anche l'immangiabile perché abbiamo avuto un'occasione davanti alla porta completamente tirata fuori non si sa come comunque io sto un po valutando mentre gioco chiaramente io credo che bisognerà rinforzare attacco e leggermente il centrocampo non tanto dirò la difesa mi sto trovando molto bene io come sempre ragazzi se avete misuraka come sempre se avete dei nomi ovviamente io li prendo in considerazione li prenderemo magari in considerazione nel prossimo video che abbiamo adesso l'ascoli e quindi che fai te ne privi di giocartela no però ci avete delle maglie che fanno ridere io devo giocare in bianco ma non vi vergognate va bene dio è in forma quindi lo mettiamo prima punta dentro gavazzi anche possiamo andarci così raga andiamo in campo sempre sul pezzo forza pordenone ritorno a una punta perché da quando ho iniziato con le due punte non faccio più gol ma è già la miseria è però quasi è girato bene dio è non riusciamo più a segnare ragazzi non riusciamo più a segnare è incredibile cosa ha fatto il portiere forse se mi fossi inventato un pallonetto staremmo parlando del vantaggio peccato ma siamo pareti forte gavazzi bella per dio attenzione si gira dio dio col destro deviato palla alta ma no ragazzi dai niente è una maledizione ma è una maledizione ma è una maledizione signori ma è una maledizione ma di cosa parliamo ancora dio ma ragazzi perché non entra più nulla ma perché non sta entrando più nulla raga ma non sta entrando ma non so cosa dirvi ragazzuoli non so cosa dirvi mi sono anche girato lo mi sono spostato non so perché passador l'abbia messa lì non lo so proprio ma non ci voglio credere ma non ci voglio credere veramente ma non ci voglio credere veramente c'è il raddoppio dell'ascoli c'è il raddoppio dell'ascoli ci perdiamo completamente la marcatura non ho capito perché non hanno saltato ragazzi chi è che se la perde andrea anderson è andrea anderson che se la perde ma non salta nessuno non salta nessuno eh ragazzi finisce qui il primo tempo bisogna assolutamente correre ai ripari e spingersi in avanti quindi passiamo a due punte dentro butic fuori andrea anderson con tremolada che ovviamente va a fare il trequartista ti prego tremo riaprimi sta partita ci pensa vabbè ragazzi penso sia una maledizione dai penso sia penso sia chiaramente una maledizione penso sia chiaramente una maledizione qui il tunnel di tremolada è clamoroso cioè no ma come si fa a sbagliare in golden center dai si è riaperta è riaperta ragazzi calò con una deviazione forza ragazzi forza forza calò da fuori area con una deviazione netta devo dire del capitano ci può ancora fare ragazzi ci può ancora fare ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno insomma qui dovevano chiudere la partita non ce l'hanno fatta nooo ma dai ma io ragazzi mi hanno fatto il malocchio non ci credo ma non ci credo avevamo fatto un'azione senza senso spettacolare veramente spettacolare veramente palo ripresa ripresa dio 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 con la forza dello spirito amen non so che cosa ho detto ragazzi ma dio ripresa ripresa meritata 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 stiamo attaccando solo ed esclusivamente noi l'ascoli non ha la più pallida idea del perché si trovasse avanti di due gol il piazzato di dio questa volta non si sbaglia oh mancano ancora 4 minuti più recupero non vorrei dire ragazzi perché qua o lo pigliamo o lo facciamo potremmo anche prenderlo effettivamente attenzione attenzione ci siamo no dai raga un'ultima azione proviamo a farla non scappate non scappate lottate 3 minuti di recupero l'abbiamo presa l'abbiamo presa bellissima alla fine la rivolta al portinone con dio che tira una scarta bella sotto al 7 eh ragazzi siamo in ultra offensiva siamo tutti avanti mamma che partita mamma che partita dio lanciata in profondità che palla di tremolada fantastica boom mamma dove l'ha messa signori valla a prendere le ali valla a prendere le ali signori non ci posso credere non ci posso credere non so veramente cosa dire torniamo in equilibrata un attimo qua ma è finita ma è finita ma è finita signori io non posso crederci che bellezza che bellezza finalmente una bella rimonta ed è tutta targata dio che sconfigge una maledizione signori che mi stava veramente facendo venire i brividi i brividi i brividi vittoria meritata tra l'altro Ascoli che era ultimo in classifica probabilmente cioè abbiamo abbiamo rischiato abbiamo rischiato abbiamo rischiato io chiuderei l'episodio ragazzi con questa partita contro l'Empoli complicata speriamo ci siano un po' di emozioni anche qui entriamo in gennaio quindi dovrebbe iniziare il calciomercato tenere in panchina Dio oggi non è il caso non è proprio il caso Tremolade è un po' stanco quindi dentro proprio Dio facciamo fare la punta facciamo andare in profondità andiamo in campo sempre sul pezzo ovviamente forza Pordenone ma sapete che mi sono trovato molto bene con diciamo così lo stile ultra offensivo mi sono spinto sempre avanti avevo sempre 3-4 giocatori in avanti ovvio che quando devi recuperare una partita ci sta adesso però provo a spingermi un pochettino in avanti così ho sempre il trequartista anche molto alto se ne questa palla è recuperata da Fischer che non ha mollato un centimetro Dio Butic di nuovo in profondità per Dio attenzione finita su Romagnoli entra in aria chiude Romagnoli ancora Dio che lotta niente da fare alla fine non mi fischiare fallo boom la messa la messa è in vantaggio il Pordenone ma oggi Dio è on fire signori ma che gol ha fatto ma io non me l'aspettavo ma io ho tirato un po' a caso vi dico la verità devo proprio essere sincero qui gran palla recuperata da Calò ragazzi che lotta come un drago Butic per Dio da fuori Ale ragazzi ma questo è un gran gol oh ma questo è un gran gol tanta roba ci siamo ancora ci siamo ancora ci siamo ancora Dio ma io l'ho proprio tirata addosso io l'ho proprio tirata addosso e non riusciamo a ribadire in rete occhio ancora al Pordenone con Butic che entra in aria Butic ha da farsi pergionare qualcosa ma non ce la fa anzi si Butic bravissimo Butic no non riusciamo a concludere peccato ragazzi perché anche oggi stiamo veramente pressando e giocando molto molto bene che Butic servito Dio perfettamente Dio se ne va davanti al portiere c'è il pallonetto e questa volta questa volta la mette nel sacco Dio è 2 a 0 Pordenone è 2 a 0 Pordenone Dio finalmente raga esattamente quello che volevo Butic che protegge Dio che va in profondità mamma mia proprio quello proprio quello che vi chiedevo nei primi episodi Dio Sekli ha penetrato al posto di Butic di nuovo per Dio attenzione a Dio davanti di nuovo al portiere la piazza col destro Dio e firma la sua tripletta personale si porta a casa il pallone 3 a 0 Pordenone assist di Sekli appena entrato per Butic bellissimo questo triangolo fantastico il portiere esce gli fa la finta e Dio lo piazza col da Roma che sleppa Sekli bravissimo per Andre Anderson attenzione perché Dio è davanti al portiere per il quarto gol questa volta invece il portiere dell'Empoli davvero un ottimo intervento devo dire questa palla per Riedermatos davanti a Parisan purtroppo c'è il 3 a 1 dell'Empoli fortunatamente tempo scaduto qui poco concentrati forse avendo già il risultato acquisito ci siamo un attimo scomposti ci siamo lasciati andare bravo Riedermatos che è un giocatore che mi è sempre piaciuto sinceramente e potrebbe pure essere un buon nome per il futuro del nostro attacco Dio per Sekli attenzione davanti al portiere Sekli e sbaglia clamorosamente ecco perché c'è tempo per l'ultima azione ancora Sekli Dio Sekli a un'altra occasione col destro palo gol il primo gol di Sekli mi sta piacendo tantissimo questo attaccante bravissimi ragazzi bravissimi il modo migliore per chiudere questo episodio è il 4 a 1 all'Empoli ragazzi con tripleta di Dio ma c'è la firma anche del giovane Sekli finisce qui signori finisce qui assolutamente superiori finalmente riusciamo a creare molto ragazzi e adesso siamo quinti a 25 punti signori davvero davvero un'ottima posizione in classifica è arrivato però il momento di salutarci ragazzi io nuovamente vi auguro buone feste spero vivamente di avervi fatto divertire in questi minuti noi ci vediamo nel prossimo video ancora auguri un saluto da me e alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti